Che senso ha studiare la storia? La domanda è una domanda solo apparentemente ingenua e in realtà potremmo anche cavarcela con una battuta e dire che studiare la storia nella vita non serve assolutamente a niente, è una cosa totalmente superflua, io posso vivere benissimo senza conoscere la storia, non posso vivere senza mangiare o senza bere. Il mio gatto non conosce niente della storia, non sa nulla della storia degli uomini, non sa nulla nemmeno della storia dei gatti eppure se la cava benissimo, poniamocelo diversamente questo problema. Poniamoci il problema cioè se la nostra dimensione è quella o può essere quella che può appagare un gatto o se al contrario il nostro statuto speciale di animali particolari ci spinge a farci qualche altra domanda che non sia soltanto quella del cosa mangerò oggi e che cosa verrò questa sera. Allora se partiamo da questo punto di vista ci rendiamo conto che studiare la storia il suo senso ce l'ha, ha il senso di capire che cosa è stata una civiltà, che cosa è stata una cultura, ha il senso di capire che cosa hanno fatto gli uomini che ci hanno preceduto per capire che cosa possiamo e come possiamo farlo noi. D'altra parte continuando nella stessa battuta con la quale ho cominciato questo discorso, la storia non serve a niente, esattamente come non serve a niente che sia esistito un signore che si chiamava Caravaggio, un personaggio che si divertiva a fare delle musichette molto orecchiabili che si chiamava Mozart o un signore che scriveva delle cose molto complesse, molto cervellotiche e apparentemente inutili che rispondeva al nome di Pirandello. Allora la storia ha un senso, la storia ha questo senso, il senso di capire appunto che cosa siamo stati, che cosa è stato il nostro io collettivo prima del nostro io collettivo attuale e del nostro io specifico e personale attuale. E' detto quindi che la storia ha un senso e ce l'ha molto forte, ha un senso lavorare, fare storia in un luogo o in un altro? Anche da questo punto di vista la risposta può essere molto semplice, no, non c'è un particolare senso, si può tranquillamente fare storia del movimento comunale italiano stando in Finlandia, lo fanno e lo fanno bene, si può fare storia dell'antico Egitto stando negli Stati Uniti, lo fanno e lo fanno bene, si può fare storia della controriforma stando in Australia e anche lì lo fanno e lo fanno bene. Detto questo, chiediamoci se farlo in un luogo o in un altro, in un contesto diciamo meglio o in un altro, abbia lo stesso valore e anche in questo caso allora la risposta è no, non ha lo stesso valore. Non ha lo stesso valore perché quando si fa storia, l'elemento, chiamiamolo così, territorio, come si diceva una volta, il termine è molto abusato, mi dispiace di usarlo, ma non ce n'è uno migliore. Il termine territorio, il concetto di territorio può essere, non è, ma può essere un valore aggiunto di importanza notevole. Può esserlo perché capire come si sono sviluppati i fatti storici, verificandoli su un territorio e quando parlo di territorio non parlo soltanto ovviamente di una unità geografica, ma parlo di una cultura, del modo in cui si è sedimentato un modo di vivere, un modo di pensare, in cui si sono sedimentate le tradizioni, in cui si è sedimentato il modo comune di vivere e di rapportarsi con gli altri, il modo condiviso di rapportarsi con gli altri. Questo è il territorio all'interno ovviamente di un'entità geografica coesa e coerente. Quando abbiamo questo sullo sfondo, fare storia assume un altro modo e assume un'altra valenza. Per esempio, noi ci troviamo in questo momento a Siena e fare storia, verificandola sul territorio nel quale ci troviamo, che non vuole dire fare storia locale, per l'amore del cielo, che ha una sua profonda dignità, ma ha un altro suo statuto, altre sue esigenze, risposte e pratiche di lavoro. Fare storia, verificandola su una realtà locale, vuole dire uscire dall'astratto delle grandi questioni, uscire da ciò che ci può apparire come in qualche maniera staccato dal nostro vivere e verificarlo sul modo in cui la storia si è sedimentata in una particolare località, in un particolare territorio. Una realtà come questa ci offre, ad esempio, la possibilità di capire la storia da tutti i punti di vista. Se ho bisogno di capire che cosa è stato il fenomeno dell'incastellamento, devo prima di andare in archivio, e andare in archivio vuole dire andare in archivio di Stato, per esempio, con i suoi 25 km di scaffalature e di documenti, o andare nei tantissimi altri archivi che sono presenti in questa città e nel suo territorio, significa affacciarmi alla finestra, guardare che cosa è l'incastellamento dal punto di vista della costruzione di un paesaggio e dei rapporti sociali e politici che si sono incardinati intorno a questo paesaggio. Se voglio fare storia dell'applicazione della controriforma, dell'applicazione dei canoni del concilio tridentino, devo certamente andare a leggermi quelle che sono state le delibere, le decisioni della Chiesa, le decisioni dei padri conciliari, ma se poi voglio capire come questo è stato applicato, devo avere la pazienza di infilarmi dentro l'archivio di una sperduta parrocchia di campagna, magari, per vedere come nel fine del 500 o nel 600 i canoni tridentini venivano applicati, se, come, quando, da chi e con quali caratteristiche. Ugualmente, se voglio fare la storia del 900, posso e devo, anzi, tranquillamente e sicuramente rifarmi ai grossi quadri storici, ma è anche altrettanto vero che posso farlo verificando localmente quello che è successo. Ci troviamo in un luogo, ci troviamo in un territorio in cui, per esempio, la storia della mezzadria ha caratterizzato un millennio di storia o, posso fare l'altro esempio, della storia dell'assistenza. Ci troviamo in una città, gli ospedali ci sono dappertutto, ma ci troviamo in una città dove nel Santa Maria della Scala gli affreschi prodotti nel 400 ci hanno lasciato un manifesto esplicito di quello che si intendeva non dal punto di vista astratto, dal punto di vista intellettuale di quello che doveva essere l'assistenza, ma di quello che era l'applicazione dell'assistenza nello specifico e nella quotidianità. Ecco, allora la risposta iniziale di questa seconda parte, ha lo stesso senso farlo in un luogo o in un altro, presuppone la risposta no, perché ci sono dei luoghi, ci sono dei territori che si offrono come laboratorio di ricerca e un laboratorio di ricerca non è mai uguale all'altro. In un laboratorio di ricerca siamo tutti quelli che fanno storia a livello di chi la insegna, a livello di chi la apprende, soli davanti al nostro soggetto e davanti alla nostra realtà di ricercatori. Fare storia all'interno di un territorio, fare storia al rapporto con un territorio, vuol dire fare storia con i documenti fisici, con i documenti cartacei, con i documenti mentali, psicologici, culturali, orali che si sono prodotti. Vuol dire fare storia andando in un archivio, ma volendo anche ascoltando semplicemente chi prende il caffè al bar accanto a noi. L'importante è imparare come si usano le une e le altre fonti e che cosa fare delle une e delle altre. Fare storia utilizzando il territorio come fonte significa, o può significare, utilizzare anche un singolo monumento del territorio, non soltanto dal suo punto di vista della storia di quel singolo manufatto, ma per capire come questo ci aiuta a capire una storia più ampia. Banalmente, ci stiamo trovando in questo momento all'interno della fortezza medicea di Siena, cioè di una struttura costruita nella seconda metà del Cinquecento, profondamente diversa da quello che è il tessuto originale medievale della città stessa. Capire la storia non soltanto architettonica, che è importante, ma ci sono quelli che lo fanno, ma capire la storia di questo manufatto all'interno di questa città in quel particolare momento vuol dire capire una pagina importante di storia politica, storia sociale, storia delle relazioni amministrative e storia delle istituzioni nel passaggio dal Medioevo all'età moderna. Per esempio, quando noi parliamo di una città, noi possiamo utilizzare chiaramente la documentazione che di questa città ci viene dallo scritto, dall'archeologia e da tutto quello che possiamo trovare, di tradizionale. Però quando parliamo di una città è assolutamente indispensabile capire che non è indifferente trovarci in una città o in un'altra città. Fare storia di una città, ad esempio, come quella nella quale ci troviamo, vuol dire semplicemente vedere quello che abbiamo intorno, capire quello che ci circonda dalla mattina alla sera, il modo in cui lo viviamo, lo vivono, viene vissuto collettivamente come è stato vissuto e capire come è stato vissuto vuol dire, logicamente, capire come storicamente si è sedimentato un sentimento di città, un'idea di città, un modo di capire questa particolare realtà. Grazie per la visione! Grazie per la visione!